Oltre 24 milioni di euro arriveranno in Emilia Romagna, 2 milioni solo a Bologna. Sono le risorse destinate ai comuni per aiutare chi a causa dell'emergenza sanitaria non riesce a fare la spesa. L'ordinanza della protezione civile, che in tuttostanza è a 400 milioni di euro, la chiama solidarietà alimentare. I beneficiari dovranno essere individuati dai servizi sociali territoriali, dando priorità a chi non percepisce nessun sostegno pubblico. A loro potranno essere dati buoni spesa da usare in determinati negozi o direttamente generi alimentari prodotti di prima necessità. Ai comuni spettano a decidere tempi e modalità. La consigliera regionale 5 Stelle, Silvia Piccinini, rimarca l'importanza di un reddito d'emergenza per affrontare una situazione eccezionale, dice, con tutti gli strumenti a disposizione, non lasciando nessuno indietro.